Si può guarire del tutto da un LMC? Se no dovremmo convivere con leggere perdite di memoria, crampi, dolori addominali, stanchezza e spostanezza? Io gli direi rispetto a morire, che era la tragica fine di un tempo, preferisco convivere con certi effetti collaterali. Vi ho tolto la parola, scusate. All'RM3, che è il nostro livello di sicurezza, però è stato studiato da più punti di vista e le cellule staminali leucemiche non scompaiono del tutto, neanche in quei pazienti che sono 10 anni, che sono in sospensione di terapia, neanche in quelli che lo sono da 20. Noi abbiamo dei pazienti, ce l'ha pure Massimo, ce l'abbiamo tutti, che con l'interferone hanno risposto particolarmente bene, sono andati in remissione completa e senza più tracce di malattia e lo sono da tantissimi anni. Poi uno studio delle cellule staminali leucemiche ha evidenziato che anche in questi pazienti queste cellule possono essere evidenziate. E noi, ahimè, abbiamo il primato di una paziente che dopo 7 anni di sospensione di terapia ha dovuto riprendere il trattamento. E quindi un caso non è significativo, però ecco perché non bisogna mai abbassare la guardia e continuare monitoraggi anche quando sono tanti anni che uno ha sospeso il trattamento, giusto Massimo? Anche dopo il trapianto, dopo il trapianto ci sono pazienti che hanno comunque una piccolissima quantità, adesso che abbiamo le tecniche quantitative di malattia, ma questo non vuol dire avere una malattia. Alla fine, questo l'abbiamo capito, cioè come per altre malattie va seguito un monitoraggio molecolare, però possono convivere assolutamente con piccolissimi residui e non sviluppare di nuovo una malattia conclamata. Tanto che c'è una differenza, quando noi sospendiamo il farmaco non parliamo di guarigione o di cura, cura dal latino vuol dire che la malattia scompare completamente, noi qua parliamo di cura operativa, operational cure, che è diverso. Cioè, sospendiamo il farmaco per rimanere magari in piccolissime quadri di malattia che però non riescono fuori.